Dal giorno in cui sono diventata presidente del Consiglio la mia priorità è sempre stata una soltanto, lavorare per aiutare le famiglie, sostenere in particolare le famiglie più fragili e le famiglie in difficoltà, famiglie che per far fronte alle spese di tutti i giorni si sono dovute confrontare in questi anni con un nemico in più che era l'inflazione. È la ragione che ha spinto il governo a concentrare gran parte delle risorse disponibili in misure di carattere redistributivo e a sostegno dei redditi più bassi, così da dare un aiuto concreto a coloro che ne avevano più bisogno. Lo abbiamo fatto tagliando i contributi a carico dei lavoratori dipendenti, anzerandoli per le mamme lavoratrici dipendenti con almeno due figli, riducendo l'IRPEF, abbassando le tasse sui premi di produttività fino a 3.000 euro e alzando la soglia di detassazione del cosiddetto beneficio marginale che i datori di lavoro possono dare ai lavoratori con un occhio di favore a quei lavoratori che hanno figli a carico. Ma lo abbiamo fatto anche aumentando le pensioni minime, indicizzando pienamente quelle fino a quattro volte il minimo IMSS, con un'iniziativa che è stata molto apprezzata dalle famiglie che è la carta dedicata a te. È una carta che permette alle famiglie con un reddito ese fino a 15.000 euro di avere un plafon a disposizione da poter spendere per l'acquisto di genere di prima necessità alimentari, carburanti, abbonamenti del trasporto pubblico locale. È un'iniziativa che il governo ha deciso di confermare e rifinanziare anche aggiungendo maggiori risorse. Destiniamo la carta a 600 milioni di euro e questo ci consente di raggiungere due obiettivi a cui tenevamo particolarmente, alzare il plafon a 500 euro e allargare la platea dei beneficiari. Ma questa carta ci consente anche di ottenere un altro scopo che è sostenere le filiere produttive italiane. È un'iniziativa frutto di un grande lavoro di squadra, desidero ringraziare non solo tutti i ministri che hanno lavorato su questa iniziativa, a partire dal ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ma anche i comuni, l'Inps, Poste Italiane, la filiera agroalimentare nel suo complesso, oltre ovviamente agli esercenti e alla distribuzione. Un grande lavoro di sistema, un lavoro corale, che ci consente oggi di confermare questo piccolo ma decisivo aiuto ulteriore per le famiglie più fragili ed esposte all'inflazione.